Da nemico ad amico Saulo era un uomo religioso, un fariseo. Pensava che chiunque credesse in Gesù stesse diffondendo una bugia e dovesse essere messo in prigione o addirittura morire. Saulo stava andando a Damasco per arrestare i seguaci di Gesù. Improvvisamente una luce splendente lo circondò. Cadde a terra. Una voce gli disse, Saulo, perché sei così cattivo con me? Chi sei tu, signore? chiese Saulo. La voce replicò, io sono Gesù, quello a cui tu vuoi fare del male. Vai a Damasco, lì saprai quello che devi fare. Saulo si alzò, ma era cieco. I suoi amici lo portarono in una casa a Damasco. Saulo aspettò qui per tre giorni. Non aveva nulla da mangiare né da bere. Nel frattempo, Gesù apparve in una visione ad Anania, uno dei suoi seguaci a Damasco. Gesù gli disse di andare a visitare Saulo e pregare per lui, così che potesse vedere di nuovo. Ci vediamo incentives. Per una visione ad snacki. Allora, come cerco a disposizione. Saulo voleva arrestare i tuoi seguaci, disse Anania tremando. Lo so, disse Gesù, ma io voglio usare Saulo per raccontare di me alla gente in tutto il mondo. Anania andò a pregare per Saulo. Gesù mi ha mandato, disse, così che tu possa vedere ed essere riempito con lo Spirito Santo. Saulo poteva vedere di nuovo, poi fu battezzato. Gesù trasformò Saulo da un uomo che faceva del male ai suoi seguaci in un capo della chiesa che raccontava a tutti di Gesù. Perciò cambiò il suo nome in Paolo.